bufera su elisabetta franchi la tempesta mediatica si è scatenata dopo che la stilista intervistata al convegno di pvh italia il foglio ha rilasciato una serie di esternazioni ritenute da tantissimi discriminatorie lesive e offensive nei confronti delle qualche sparuta voce ha provato invece a difenderla tra queste c'è stata quella di katia sorella di elisabetta che di recente si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per aver iniziato a frequentare il parterre del trono over di uomini e donne elisabetta è stata fraintesa si è affrettata a dire katia in una chiacchierata con il corriere della sera la donna che lavora nell'azienda di famiglia ha aggiunto che la sorella non intendeva dire quello che tutti hanno invece pensato e adesso viene massacrata e ancora sono tutti bravi a parlare a criticare ma in questo tipo di situazioni lavorative lo stato non ti aiuta in niente mia sorella è sempre stata dedita al lavoro fin dall'inizio ha fatto solo sacrifici e ancora adesso non ha orari fra l'altro abbiamo tantissime ragazze giovani che lavorano con noi in azienda alcune hanno avuto figli e poi sono tornate a lavorare quindi qual è il problema ha chiusato katia forse katia si scorda che le parole in questione sono state pronunciate direttamente dalla sorella in modo ragionato all'interno di un discorso altrettanto pensato insomma parlare di fraintendimento sembra più che altro un'operazione di arrampicata mondiale sugli specchi in certi casi forse sarebbe meglio chiedere scusa e fare mea culpa e invece la donna ha continuato a difendere la sorella spada tratta e a proposito degli ormai noti anta ha detto che gli anni ci sono e non si possono nascondere qui noi donne siamo il frutto delle nostre esperienze di vita e di lavoro ecco perché amo anche le mie rughe alla mia età sarei ridicola se mi facessi tirare o mi facessi fare le punturine e tutta quella roba lì non sarei credibile e invece io voglio essere me stessa e invece io voglio essere me stessa e 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